carissimi amici bentornati per una nuova puntata del catechismo di san pio decimo stiamo nella sezione molto bella molto calda molto attuale dell'eucaristia non vorrei dilungarmi troppo tempo in chiacchiere perché tra l'eucaristia e il sacramento della penitenza abbiamo tantissimissima carne al fuoco quindi meglio partire quasi brutalmente con la lettura dei numeri e il commento in modo tale che possiamo gustarli procedere e non perderci troppo in chiacchiere allora siamo al numero 346 inizia oggi il quarto paragrafo dedicato all'eucaristia abbiamo già visto gli altri nelle puntate precedenti ossia è il primo cioè sacramento istituzione fine il secondo la presenza reale di gesù christo nell'eucaristia il terzo sia la santa comunione volta scorsa disposizione obbligo effetti oggi si vede la santa missa e cominciamo con la lettura 346 le eucaristie sono un sacramento risposta l'eucaristia non è solo un sacramento ma è anche il sacrificio permanente del nuovo testamento che come tale si chiama la santa missa quindi attenzione quando si parla di eucaristia non si parla solo del sacramento quindi della trasformazione dell'ostia del pane nel corpo di cristo del vino nel sangue di cristo e quindi poi conseguentemente la santa comunione quindi poi la permanenza della presenza di gesù nell'ostia ma parlando di eucaristia si parla anche di sacrificio termine oggi è proprio questa l'essenza della missa sacrificio permanente cioè l'unico del nuovo testamento allora con la consueta sapienza la prima cosa che fa dice santo sacrificio e si chiama santa messa cosa farà il catechismo esempio decimo numero 347 che cos'è il sacrificio e numero 348 che cos'è la santa messa diamo che cos'è il sacrificio il sacrificio della pubblica offerta a dio di una cosa che si distrugge per professare che egli è il creatore padrone supremo al quale tutto è interamente dovuto ovviamente tre punti da ricordare pubblica pubblica offerta a dio non privata perché noi anche in privato siamo dovuti offrire sacrifici è pubblica Gesù è morto in crue sotto 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 gli occhi di pub di tutti in mezzo alla strada una cosa che si distrugge che cosa ha distrutto Gesù cosa si è fatto distruggere il suo corpo se l'ha fatto massacrare la sua vita è morto veramente e che cosa dice il sacrificio il sacrificio è un atto dovuto a dio è per cosa per professare che egli è il creatore ed è il padrone di tutto noi non siamo creatore di niente noi non siamo padroni di niente a dio bisogna riconoscerglielo pubblicamente che lui è il creatore il padrone a quale tutto è interamente dovuto ecco perché andare a messa la domenica padre ma io prego però a casa e poi ogni tanto vado pure in chiesa accendo la candela nine fratello sorella mia il sacrificio l'ho offerto pubblicamente davanti a tutti tutti alzi vai a messa e attesti a dio che quella cosa gli è dovuta in pubblico ti va non ti va c'è voglia non c'è voglia c'è sono non c'è sonno voi andate a divertire non mi ha detto divertire ci vai punto e basta che cos'è la santa messa la santa messa è il sacrificio del corpo e del sangue di gesù cristo che sotto le specie e del pane e del vino si offre dal sacerdote a dio sull'altare in memoria e rinnovazione del sacrificio della croce ma guardate questa definizione è semplicemente un mito e guardate che oggi la teologia moderna della santa messa si come dire ha trovato il modo di di salvare queste cose ma non è più così è non è più così anzitutto per quanto riguarda il soggetto celebrante perché troverete in giro autori su autori su autori che dicono no non è il prete che celebra la missa è l'assemblea liturgica il soggetto celebrante lo troverete in giro quanto volete e lo si vede anche dalla conformazione attuale no delle chiese quindi l'altare versus populum e praticamente tutti quanti intorno quindi che formano un corpus di cui il sacerdote si è la testa il presidente ma con tutti il sacrificio è offerto dal sacerdote in persona cristi gli altri chiaramente partecipano non con celebrano o peggio ancora celebrano con il sacerdote comunque è il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù Cristo che sotto le specie le apparenze del pane e del vino si offre dal sacerdote a dio sull'altare in memoria cioè quel sacrificio ricorda e al tempo stesso però rinnova il sacrificio della croce questa è la parola chiave non è solo un ricordo come pensano i protestanti la memoria della cena del signore no è una rinnovazione e vedremo in che senso adesso spiega tutto qui cioè questi passaggi bisogna parli a memoria amici cari se vogliamo farci un regalo 349 il sacrificio della messa è lo stesso sacrificio della croce che rispondereste voi il sacrificio della messa è il sacrificio stesso della croce c'è solo differenza nel modo di compierlo ci rendiamo conto c'è differenza nel modo di compierlo e quale sarebbe questa differenza 350 che differenza c'è tra il sacrificio della croce quello della messa tra il sacrificio della croce quello della messa se questa differenza che Gesù Cristo sulla croce si sacrificò dando volontariamente il proprio sangue quindi fu un sacrificio cruento e meritò ogni grazia per noi fu un meritorio attraverso quel sacrificio scese la grazia della redenzione invece sull'altare egli senza spargere sangue quindi si sacrificio cruento si sacrifica e si annienta misticamente per il ministero del sacerdote a quale fine di meritarci ogni grazia no di applicarla la grazia e ci applica i meriti del sacrificio della croce è uno spettacolo attenzione quindi sacrificio della croce cruento dio ha versato Gesù ha versato il sangue per meritarci la grazia e ogni grazia senza quello amici cari chiudiamo tutti quante le baracche e attenzione quando si parla di maria corredentrice ecco perché tanto osteggiato vuol dire che maria ha collaborato con questi fini cioè anche lei pur non avendo versato il sangue ma le lacrime ha meritato ogni grazia per noi il dogma della corredentrice così osteggiato perché non c'è nessuno che vuol nessuno pochi che siano disposti ad ammettere che non perché sia necessario ma per volontà di dio una pura creatura ha cooperato a restituirci la grazia non soltanto a distribuirla ed applicarla non voglio parlare di questo adesso e lo ha fatto non perché fosse necessario ma per ragioni di convenienza stabilite dall'altissimo perché in due hanno rovinato l'umanità ha cominciato una donna e ha coinvolto l'uomo e in due la redimono comincia l'uomo dio e coinvolge la donna esattamente il contrario tanto sorgerà sorgerà quel papa che dirà alla chiesa ella è la corredentrice anzi forse ce l'abbiamo già in giro e me lo auguro vivamente io detto fra me e voi sta già in giro sta comunque sull'altare invece egli non versa il sangue ma si annienta misticamente attraverso il ministero del sacerdote più annientato della condizione delle specie consacrate non ci può stare completamente in balia delle nostre mani anacce spesso e volentieri più annientato di gesù volontariamente e se un prete celebra la messa in stato di peccato mortale che fa gesù se rimane in paradiso no si annienta e scende in quelle mani che scolano marciume si legge nelle opere di luisa piccarreta che gli fa venire il volto a stomaco scendere lì dentro ma ci scende lo stesso e se uno prende la comunione sulle mani tutte sudate zozze lerce non se ne va se ne va nostro signore io dico purtroppo no purtroppo più annientato dell'eucaristia non se la poteva inventare peggio ancora che quando era se che di quanto si è annientato nell'umanità e non però per procurarci la grazia ma per applicarla per applicarla la grazia ecco perché la messa si si fa celebrare per i defunti e si dice che si applica la messa ora per quali fini si offre a dio la messa? a che cosa dobbiamo applicarli questi meriti? allora la messa si offre a dio primo per rendergli il culto supremo di latria o adorazione e questo lo fa chi? figlio stesso immorandosi attraverso il sacerdote poi per ringraziarlo dei suoi benefici poi ecco adesso i moderni e soprattutto i modernisti quando sentono questa cosa qui vanno su tutte le furie per placarlo e dargli soddisfazione dei nostri peccati questi termini sono completamente spariti dai nuovi messali completamente censurati non si trovano più per esempio c'è la preghiera eucaristica 3 che contiene il termine placari voluisti ma sia nella traduzione precedente che nel nuovo non è stato tradotto in italiano il termine placare non c'è in latino c'è ma in italiano non c'è in una delle preghiera eucaristiche nuove quindi vuol dire che questa cosa è andata andando avanti con il tempo cioè quando è stata fatta il messale nuovo in latino ancora non aveva preso molto piede questa novellissima teologia che quando sentite placare o dare soddisfazione dei nostri peccati c'è chi va dicendo in giro dentro realtà ecclesiali che questo è un concetto pagano questo qui che Dio ha bisogno di essere placato dai sacrifici o di dare soddisfazione dei nostri peccati ma questo è una bestemmia solo a pensarlo dicono perché questa è la concessione delle divinità pagane no? bisogna offrire i sacrifici per placare la divinità peccato che che nel catechismo di San Pio X c'è scritto c'è scritto perché sta scritto nel concilio di Trento non nel catechismo di San Pio X in definizioni dogmatiche non riformabili non cambiabili da nessuno da nessuno né concili né papi né nessuno una definizione dogmatica questo è bene che se lo mettano tutti bene in testa non può essere cambiata da nessuno il Papa non ha l'autorità di cambiare una definizione dogmatica né un concilio può contraddire un precedente concilio non lo può fare l'autorità del Papa e del Collegio Episcopale non è illimitata è vincolata questo sia ben chiaro è anche quella dei teologi cattolici che non possono andare a a fantasticare concetti ed idee contrarie a quanto definito autorevolmente dal Magistero della Chiesa non possono lo fanno ma non possono e non devono quindi rendere il culto supremo di latria o adorazione a Dio è dovuto tutto latria significa culto adorazione ringraziarlo dei suoi benefici dargli soddisfazione dei nostri peccati cioè placarlo e ottenere grazie a vantaggio dei fedeli vivi e defunti ecco perché la Messa si può offrire per i vivi si può applicare per i vivi o per i defunti che significa quando faccio celebrare la Messa per un defunto significa che i meriti del sacrificio della Croce saranno applicati in misura limitata perché la Messa attenzione è un atto che rende presente un sacrificio dal valore infinito quale è quello della Croce però essendo compiuto da una creatura che è il sacerdote quindi ha un valore finito non sono infiniti i meriti applicati dalla Santa Messa altrimenti se fossero meriti infiniti che cosa facciamo non applichiamo la Messa per nessun fine particolare e tanto durante la preghiera eucaristica si prega per i vivi e per i defunti con i meriti infiniti qualunque cosa succeda capite sono coperti tutte le intenzioni possibili immaginabili per i vivi e per i defunti ma la Chiesa questa non l'ha mai pensato e non l'ha mai fatto perché non è vero non è vero ed ecco perché l'intenzione della Messa non è cumulabile non si può applicare una Messa per più intenzioni non si può e non si deve inutile che sicuramente mi faranno 5.000 domande finita la diretta chi sta seguendo la diretta che tanto lo fanno tutti quanti è un abuso tra l'altro anche stigmatizzato da un documento della Chiesa autorevole che uscì qualche anno fa un decreto della congregazione del clero sulle cosiddette messe collettive ma tanto se lo fira nessuno ok 352 la Messa non si offre anche ai Santi se facciamo la Messa di San Pio il 23 settembre no la Messa non si offre ai Santi ma la Messa si offre a Dio solo anche quando si celebra in onore dei Santi ma il sacrificio spetta solo al creatore e al padrone supremo cioè non è che il sacrificio che si compie sull'altare nella ricorrenza di San Pio del Cina viene offerto a Padre Pio ma stiamo scherzando la Messa ci offre sempre a Dio creatore padrone supremo ricordiamo ecco perché Padre Pio chiamava Dio il padrone Dio è padrone è tutto suo comanda lui dominus in latino noi ci rivolgiamo sempre dominum dominus dominus è più bello in latino perché da dominus viene dominio viene dominatore no? e che significa? uno che c'è il dominio nel diritto romano il dominio si chiama dominio quiditario è la proprietà assoluta di una cosa ma noi siamo tutti quanti proprietà assoluta dell'altissimo anche chi rifiuta di riconoscerlo e di esserlo siamo obbligati ad ascoltare la Santa Messa 353 noi siamo obbligati ad ascoltare la Santa Messa la domenica e le altre feste comandate obbligati obbligati vuol dire che per amore o per forza ci vai quanti genitori mi chiedono ma mio figlio non ci vuole andare più a Messa che faccio lo porto lo stesso lo porti lo stesso che domanda è? alla Messa domenicale sì se tu vi ho a Messa tutti i giorni io ho conosciuto genitori che hanno obbligato i figli ad andare a Messa tutti i giorni questo a mio avviso è un'imprudenza se vogliono vanno a Messa tutti i giorni ma la domenica non esiste fino a quando stai a casa mia quantomeno se non c'è la maggiore età perché adesso non sa manco che cosa si rischia con le lecidili tu vieni a Messa davanti a me perché tu genitore hai l'obbligo di trasmettere al tuo figlio che questo non è un optional lui potrà anche un giorno scegliere di non andarci peccando mortalmente però e lo deve capire che è un peccato mortale tu non lo puoi lasciare libero di fare quello che vuole fino a quando sta sotto la tua autorità proseguo la lettura giova però assistervi spesso per partecipare al più grande atto della religione sommamente grato a Dio e meritorio giova assistervi spesso vedete il linguaggio del catechismo è sempre come dire rispettoso e qual è il modo più conveniente di assistere alla Santa Messa era e modestissimo parere rimane questo il modo più conveniente di assistere alla Messa è offrirla a Dio in unione col sacerdote ripensando al sacrificio della croce cioè alla passione morte del Signore e comunicandosi quindi vedete come anche il catechismo di San Pio X raccomanda la comunione perché nel modo più conveniente non è obbligatorio ma qual è una grande partecipazione a una Messa in cui tu stai attento devoto concentrato soprattutto nella parte centrale che è la consagrazione alla preghiera e caristica stai fisso con il cuore e con gli occhi sul Calvario pensando a quello che Gesù ha fatto e a quello che si compie sull'altare e poi ricevendolo nella Santa Comunione che è unione reale alla vittima immolata ed è perciò la maggior partecipazione al Santo Sacrificio vedete come in pochissime parole se uno si imparasse solo queste già capirebbe tantissimo di ciò che la Messa nella Santa Chiesa Cattolica e passiamo abbiamo un po' di tempo al Capo Quinto che parla del Sacramento della Penitenza altro grande Sacramento oggi messo in mezzo a una strada perché i sacramenti messi in mezzo alla strada credo l'ho accennata la volta scorsa sono tutti nessuno escluso tutti messi in mezzo a una strada battesimo in mezzo a una strada messa e comunione e eucaristia in mezzo a una strada penitenza in mezzo a una strada matrimonio in mezzo a una strada ordine in mezzo a una strada mezzo a una strada cresima in mezzo a una strada unzione degli infermi un tempo estremo unzione in mezzo a una strada tutti oggi il mio modestissimo parere però se mi sei perdonato ha detto i lavori perché io sacramenti li amministro quindi so chi li frequenta so chi li chiede so come li vivono certamente i federilaici possono vedere in giro e darsi un'occhiata in giro allora che cos'è la penitenza ora molto semplicemente la penitenza o confessione è il sacramento istituito da Gesù Cristo per rimettere i peccati commessi dopo il battesimo e qui c'è la risposta da dare a quelli che dicono io mi provo a dire i miei peccati al prete nel numero seguente io mi confesso direttamente con il Signore perché devo andare a dire i miei peccati al prete qui nei paesi dove io mi trovo perché devo andare a dire i miei peccati al prete cibo quotidiano diciamo così 356 il sacramento della penitenza quando fu istituito da Gesù Cristo ma l'ha veramente istituito da lui e se lo sono aumentati i preti per andare a origliare a sentirsi gli affari degli altri con malignia qualcuno il sacramento della penitenza fu istituito da Gesù Cristo quando disse agli apostoli e in essi ai loro successori la sera stessa di Pasqua ricevete lo Spirito Santo a chi li metterete i peccati saranno rimessi e saranno ritenuti a chi li riterrete quindi detto fra me e voi non ha detto Gesù Cristo a chi rimetterete i peccati cioè a tutti saranno rimessi punto e basta no ha aggiunto a chi non li rimetterete o volendo usare il verbo positivo li riterrete quindi non li scioglierete saranno non rimessi quindi vuol dire che a volte i peccati non possono essere rimessi o non devono essere rimessi per istituzione divina non per istituzione umana non è che ah ma la soluzione le cose perché hanno cominciato a fare i discorsi Teorgio poi Sant'Alfonso era troppo rigido a destra e a sinistra no no ha detto Gesù a chi li rimetterete saranno rimessi a chi non li rimetterete resteranno non rimessi vogliamo discutere con Domine e Dio adesso vogliamo discutere con Domine e Dio per carità chi è il ministro della penitenza il ministro della penitenza è il sacerdote approvato dal vescovo dovete sapere chiunque ascolta che un sacerdote per il fatto di essere sacerdote quindi dopo l'ordinazione non può ascoltare le confessioni io racconto sempre io mi sono fatto perché il vescovo Petrocchi era un pochino severo su questo punto perché generalmente dopo l'ordinazione i vescovi concedono la facoltà di ascoltare le confessioni subito si dice così o massimo il giorno dopo generalmente bisognerebbe fare una verifica un test al sacerdote per vedere se ha la scienza quindi chiede agli alcuni casi per poter ascoltarle le confessioni perché non è che ascoltare le confessioni quando c'è il primo che capita il monsignor Petrocchi il test lo faceva io prima di ricevere l'autorizzazione di confessare soprattutto dal cancelliere mi ha interrogato con tutto che avevo già la licenza non ancora il dottorato ma in teologia ho fatto esame e venti giorni dopo il 28 maggio ho avuto la facoltà di confessare mi è andato pure bene per i tempi che c'era con il monsignor Petrocchi questo perché questo perché perché una volta l'unico ministro qui non lo dice il catechismo lo accenno soltanto antichissimamente l'unico ministro della penitenza era il bescovo quando la penitenza era pubblica non la confessione era pubblica la confessione non è mai stata pubblica nella chiesa ma l'amministrazione del sacramento coinvolgeva la comunità cristiana e la penitenza che i peccatori facevano era una penitenza pubblica salate un po' e non certamente un Ave Maria o due vabbè quante e quali cose si richiedono per fare una buona confessione ecco questo bisogna imparare la memoria come le tre condizioni per fare una buona comunione il giugno eucaristico grazie di Dio e pensare e considerare che si va a ricevere queste cinque bisogna imparare la memoria quali sarebbero? primo esame di coscienza secondo il dolore dei peccati terzo il proponimento di non commetterne più quarto la confessione e quinto la soddisfazione o penitenza di questi adesso ne parla uno per uno a cominciare dall'esame di coscienza guardate che è molto frequente ve lo dico perché lo so perché se ne accorge subito un sacerdote ogni tanto che succede? che uno vede il sacerdote confessionale e dice mi fa mandare a confessare si mette lì davanti e si capisce subito che non sa che dire perché chi l'ascolta lo capisce che non ha fatto l'esame di coscienza quindi va lì e improvvisa amici miei cari i sacramenti sono una cosa seria qui parlo io prima che parli il catechismo di San Pio X perché tu non puoi andare a confessarti così vedi boom a meno che non sai di aver commesso un peccato grave e non è che c'è bisogno di fare troppo esame di coscienza vuoi andarti a liberare di quello per carità questo si può fare ma la qualità media dei fedeli richiede che prima di entrare in confessionale devi fare l'esame di coscienza io in chiesa ci sono sempre gli obuscoletti sempre per fare l'esame di coscienza non credo che molti li usino però ci stanno sempre sono disponibili sul mio sito web area download schemi per l'esame di coscienza sia per le confessioni impegnative sono schemi per i peccati mortali sia per le confessioni di devozione quelli con le mancanze le imperfezioni perché il sacramento della penitenza è fatto per l'80% dagli atti del penitente se quegli atti non sono fatti bene il sacramento pur essendo valido non produce quasi nessun frutto è sterile allora torniamo al catechismo esempio 10 come si fa l'esame di coscienza l'esame di coscienza si fa richiamando alla mente i peccati commessi in pensieri parole opere ed omissioni contro i comandamenti di Dio i precetti della chiesa gli obblighi del proprio stato a cominciare dall'ultima confessione ben fatta attenzione agli obblighi del proprio stato io lo dico sempre noi abbiamo quando si parla per parlare di peccati ok di peccati tu devi essere andato contro i comandamenti i precetti della chiesa e i tuoi doveri di stato certo che poi nella confessione si possono confessare anche i peccati veniali le imperfezioni che lì ce ne sono quante ne vogliamo che stanno ad un livello inferiore ma per esempio i doveri del proprio stato so peccati e qui io parlo a sacerdoti se qualcuno ascolterà vescovi religiosi religiose monaci monache mariti e mogli che ci hanno degli stati di vita definiti nella chiesa con degli annessi valori che hanno fatto delle promesse dei giuramenti davanti a dio prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore nella salute e nella malattia non è solo non commettere adulterio fedele sempre e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita poi tu l'hai promesso davanti a dio il contenuto del matrimonio è fatto su questa promessa quindi ogni mancanza di amore e di onore dato al coniuge è da confessare è peccato al marito alla moglie non si dice cretino stupido deficiente non si dicono queste cose qui perché tu sei obbligato a onorarlo non solo a rispettarlo onorarlo vuol dire portarlo in palma di mano un prete stesse attento alle cose che fa stesse molto attento alle cose che fa alle cose che dice nella predicazione a come amministra i sacramenti se la amministra in maniera degna decorosa coscienziosa a come compie i propri doveri di stato i parroci hanno dei doveri gravi per esempio visitare i malati di persona non per delega sapete quanta gente si lamenta che sono malati a casa e il parroco non li va a visitare o se proprio gli fa le leemosine gli manda il ministro straordinario a fa che il ministro straordinario a fare cosa e se quello si deve confessare che gli fa il ministro straordinario il vento che gli fa e se quello vuole l'oleo santo che sta male che gli fa il ministro straordinario il vento che gli fa e se quello vuole il viatico non parliamo i religiosi e le religiose che hanno una regola da osservare la devono osservare non gliela ha ordinato il medico di farsi suore frati monaci o monache l'hanno fatto liberamente lasciando i tre voti evangelici e la regola la devono osservare nell'esame di coscienza dobbiamo ricercare il numero dei peccati nell'esame di coscienza dobbiamo ricercare con dirigenza anche il numero dei peccati mortali mortali allora qui sono due estremi c'è chi confessa i peccati mortali senza dire il numero e chi invece specialmente le coscienze scrupolose te fanno una lista interminabile dei peccati veniali ecco due cose entrambe da evitare perché i peccati mortali vanno confessati bene se uno sa il numero preciso lo deve dire se non la confessione sacrilega se uno non sa il numero preciso deve dare l'ordine di grandezza arrotondando sempre per eccesso mai per difetto i peccati veniali possono essere confessati in maniera generica non serve specificare troppo come invece nei peccati mortali che vanno confessati per specie cioè io posso tranquillamente confessare tanto a fare qualche esempio ho commesso delle mancanze alla virtù della pazienza non serve che racconto tutte quante le volte in cui l'ho persa ho commesso delle mancanze alla virtù della terra ho avuto qualche sguardo non dico impuro in senso stretto però non mortificato nel senso che mi sono un attimo fermato poi ho tolto lo sguardo quello non è uno sguardo impuro che è peccato mortare uno sguardo impuro quando uno si sofferma desiderando e soffermandosi su una su una cosa oscena no eccetera quindi il numero si dice dei peccati mortali quindi se becchi un peccato quante volte sei mancato ammessa la domenica lo devi dire non ti sei liberato dei peccati impuri solitari devi dire quanti ne hai fatti se dall'ultima cosa se non ti sei confessato 50 anni fa ma ti sei confessato un mese fa ecco un mese tu sei perfettamente in grado se fai attenzione se sei caduto de sexto di dire quante volte sei caduto una due tre quattro lo impone la legge della chiesa e lo impone il concilio di Trento quindi non si può confessare semplicemente ho fatto questo e non bisogna mettere il sacerdote nella condizione molto antipatica di dire un tempo quante volte è brutto assicuro è molto è molto fastidioso però capite il sacerdote sente un peccato mortale capisce che la persona potrebbe potrebbe saperlo il numero che fa se non glielo dice la confessione è nulla se glielo dice fa una cosa antipatica meglio 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 risparmiargli a quel povero confessore no lo fa il penitente quando fa l'esame di coscienza così ci arriviamo il problema meglio no passiamo al dolore e proponimento a che punto stiamo qui ok abbiamo ancora un pochino 361 che cos'è il dolore il dolore o pentimento è quel dispiacere e odio dei peccati commessi che ci fa proporre di non più peccare più chiaro di così dispiacere o odio dei peccati commessi e quando c'è è inevitabilmente accompagnato dal proposito di non più peccare una autotreno di confessioni sono sacrileghe perché manca il dolore cioè il pentimento che è la causa del perdono di Dio Dio perdona solo chi è pentito pentito nel senso che gli dispiace quello che ha fatto lo odia lo detesta e propone fermamente di non farlo più ora di quante specie è questo dolore di due specie quello perfetto o contrizione e quello imperfetto o attrizione che poi spiega che cos'è il dolore perfetto o contrizione il dolore perfetto o contrizione è il dispiace dei peccati commessi perché sono offesa di Dio nostro padre infinitamente buono e amabile e cagione della passione e morte del nostro redentore Gesù Cristo figliolo di Dio Dio mi penta e mi tolgo con tutto il cuore dei miei peccati perché peccando meritato i tuoi castigli questo lo vedremo con l'attrizione ma molto di più perché ho offeso te infinitamente buono e degno di essere amato noi dovremmo piangere lacrime di sangue l'offesa cioè il disprezzo di colui che ci ama infinitamente e che è soltanto che è il sommo bene nei nostri confronti e ogni peccato è la causa della passione della morte di nostro Signore quando una persona pecca sputa in faccia a Gesù Cristo prende i flagelli e lo scarnifica prende le spine e le mette in testa prende i chiodi e gli trapassa le mani e i piedi prende i piedi per prenderlo a calci le mani per prenderlo a pugni gli strappa la barba gli strappa i capelli tutto quello che gli hanno fatto non ci sono lacrime per piangere un solo peccato mortale di per sé non ci sono perché dovremmo piangere per tutta la vita tutti i giorni questo è il dolore perfetto e da dove nasce questo dolore perfetto 364 perché la contezione è il dolore perfetto sentite la contezione è il dolore perfetto perché nasce da un motivo perfetto cioè dall'amore filiale di Dio o dalla carità e perché ci ottiene subito il perdono dei peccati sebbene resti l'obbligo di confessarli se uno ha questo dolore quindi un dolore perfetto questo non siamo in grado di discernirlo perfettamente però spie per discernerlo fa un peccato e comincia a piangere e nel piangere dice ma signore mio io ti ho rimesso in crocio questo che ho fatto oh signore mio ma tu mi hai dato tutto quanto il bene possibile immaginabile di questo mondo io ti ho ripagato così ti ho preso schiaffi in faccia ecco se questo è quello che si muove nel nostro cuore possiamo ragionevolmente pensare che c'è questo vedete che questo questo tiene subito il perdono dei peccati anche se resta l'obbligo di confessarli potendo ma se una persona per esempio sente questa cosa e poi muore quindi improvvisamente quindi gli riesce impossibile confessarsi è perdonata vedremo viceversa se una persona si confessa e questo non c'è vostra confessasse fino al giorno del giudizio non c'è nessun perdono ora se non si è questo grado perfetto la chiesa nella sua sapienza insegna che c'è un grado imperfetto perché San Giovanni spiega nella sua lettera che esiste l'amore ed esiste anche il timore l'amore perfetto scaccia il timore chi teme non è perfetto nell'amore ma il timore è il primo step nell'antico testamento Dio incuteva timore allora che cos'è il dolore imperfetto o attrizione il dolore imperfetto o attrizione è il dispiacere dei peccati commessi per il timore dei castighi eterni o temporali ovviamente pensate alla gente che va cianciando in giro che Dio non castiga nessuno come fa una persona ad avere se non riesce a piangere i peccati perché hanno offeso Dio e sono stati le cause della posizione di Gesù a piangere nemmeno perché dice adesso nostro Signore manderà qualcosa per quello che ho fatto e oltre ai castighi temporali stanno quelli eterni che sono quelli dell'inferno se mi danno ma sono anche come dire eterni nel senso che coinvolgono la vita ultraterrena se me ne vado un purgatore o anche per la bruttezza del peccato vedete anche che schifo quello che ho fatto ho fatto un attimo puro solitario ma che che vergogna che degradazione di me stesso mi vergogno di quello che ho fatto se non c'è però perché ho offeso Dio e perché sono stato la causa della passione di Gesù è già tanto questo ma è ancora una forma imperfetta pensate in orridire del peccato è ancora uno step imperfetto 366 perché l'attrizione è dolore imperfetto dice l'attrizione è dolore imperfetto perché nasce da motivi meno perfetti e propri dei servi anziché dei figli vedete no servi e figli sempre questa è l'alternativa e perché non ci ottiene il perdono dei peccati se non mediante il sacramento cioè quando tu c'è la contrizione Dio ti ha perdonato ancora prima di confessarti anche se ti devi confessare quando c'è l'attrizione Dio ti perdona solo mediante la confessione non prima è necessario avere dolore di tutti i peccati commessi allora è necessario avere dolore di tutti i peccati mortali commessi senza eccezione è conveniente averlo anche dei peccati veniali ma è necessario senza eccezione avvero dei peccati mortali se no non c'è perdono un sacerdote che non sia padre Pio ma perché padre Pio mandava via un sacco di gente cos'era forse vogliamo andare a dire che padre Pio era un cattivo confessore che ha confessato milioni di persone andatevi a informare quanta gente guardate che uno che andava da padre Pio secco che usciva assolto era interna all'otto lui aveva il dono straordinario di poter leggere le coscienze quindi sapeva uno se una persona non c'aveva nessun dolore due se le aveva detti tutti oppure no noi questo non lo sappiamo però un sacerdote può evincere questa cosa da altre circostanze e se sospetta che il sacerdote che il penitente non sia pentito deve quantomeno esortarlo ma se appare evidente che il penitente non è pentito faccio un esempio il confessore viene detto da qualcuno che usa dei metodi contraccettivi il confessore dice non si possono usare queste cose devi smettere ah no io non smetto se non smetti o non fai neanche un proposito non c'è nessuna soluzione che si possa dare due ragazzi che hanno scelto di vivere con marito e moglie pur senza convivere prima del tempo non è che possano andarsi a confessare ogni volta che fornicano facendo un peccato orribile fanno quello che non devono fare poi vado a confessare e poi il giorno dopo rifaccio poi la domenica dopo mi riconfesso e avanti così la recidiva senza miglioramento nel peccato è una spia dell'assenza di dolore perché il dolore comporta sempre il fermo proposito di non peccare più per cui se un'anima ancora immatura ci può stare che ricada bisogna vedere come se si rimane costanti cioè tu fai una caduta a settimana sul peccato e quella sempre rimane è difficile che ci sia un pentimento se hai caduto diventato uno ogni 15 giorni vuol dire che stai combattendo e quindi si può assolvere questo va bene non interessa molto e non addetti ai lavori però può essere utile per una formazione generica perché è necessario avere dolore di tutti i peccati mortali 368 è necessario avere dolore di tutti i peccati mortali perché con qualunque di essi si è offeso gravemente Dio si è perduta la grazia e si merita di restare separati da lui in eterno questo noi dobbiamo ricordarcelo sempre e tenere sempre la crestina bassa perché basta aver fatto un solo peccato mortale per essersi resi degni dell'inferno e che vuol dire che se non ci andiamo dobbiamo stare tutta l'eternità in ginocchio a ringraziare il nostro Signore e quello che ha fatto per noi 369 che cos'è il proponimento attenzione a questo passaggio il proponimento è la volontà risoluta prendere appunti risoluta di non commettere mai più peccati e di fuggire l'occasione perché ricordiamo sempre insegna la Chiesa che un battezzato un giustificato se vuole i peccati mortali non li commette perché i peccati mortali per essere commessi richiedono una adesione della volontà e la nostra volontà è libera non è mai costretta a peccare mai neanche quando ci fossero delle spinte delle violenze delle sollecitazioni ma noi rimaniamo sempre liberi un battezzato deve avere come motto la morte piuttosto che il peccato mortale ma la morte veramente perché la morte del corpo la morte del corpo è meno grave della morte dell'anima col peccato mortale il proporimento è la volontà risoluta non la mezza volontà non la belleità sapeste quante persone mi contattano e mi dicono come faccio uscire dal peccato qui ne dice due volontà risoluta e fuga dalle occasioni poi ce ne manca la terza che è la preghiera e l'uso degli strumenti di grazia per avere la forza ma tu per fare tutti gli strumenti di grazia che vuoi ma se non c'è la volontà risoluta e la fuga dalle occasioni tu non uscirai mai dal peccato quali sono le occasioni facciamo sempre gli esempi più classici se sto in mezzo a certe compagnie ubriaco non ci devi andare in mezzo a certe compagnie se sto con certi cattivi amici bestemmio non ci devi andare se sto con certi cattivi amici dico un sacco di parolaggi non ci devi andare se mi metto davanti alla televisione inesorabilmente vado a cercare qualche cosa che è un po' mmm e poi faccio peccato o di sguardo impuro o di peccato impuro spegni eh ma poi se apro il computer vado sui siti un po' hot 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 in inglese spegni oppure metti il computer in un posto pubblico dentro casa dove tutti quanti vedono in modo tale che se tu sei protetto e potremo continuare fino al giorno del giudizio sono i casi di scuola il ragazzotto adolescente schiavo del peccato impuro solitario dice in casa sta sempre solo e quindi stando solo come fa a fuggire le occasioni le fugge come? esce ma è studente deve studiare va alla biblioteca comunale se sta in città e se no si inventa qualcosa si chiama un amico studia non si è ti devi inventare qualcosa se una persona vuole uscire dal peccato qualcosa se la inventa se non se la inventa è perché sta cercando scuse per non uscire dal peccato che cos'è l'occasione di peccato 370 l'occasione del peccato è ciò che ci mette in pericolo di peccato sia persona sia cosa sia persona sia cosa attenzione alle persone che sono sposate ad avere come dire rapporti di indebita vicinanza e familiarità con persone diverse dal proprio coniuge se si andava a dire un tempo una cosa del genere era il confessore ma te faceva correre con cavallo puro sangue arabo perché a parte la sconvenienza del fatto in sé ma noi dobbiamo avere l'umiltà specialmente poi che è il mondo sposato di ricordarci che esiste il peccato originale e come vedremo adesso nel 371 noi non possiamo fare i galletti o essere sicuri di noi stessi non mi succede niente è solo amicizia 371 siamo obbligati a fuggire le occasioni di peccato siamo obbligati a fuggire le occasioni dei peccati perché siamo obbligati a fuggire il peccato chi non le fugge finisce per cadere dice no ma fino ad oggi non è mai successo fino ad oggi fino ad oggi non è detto che uno cada subito se si mette nell'occasione di peccato non è detto poi quando cadrai ti ricorderai finisce per cadere poiché qui c'è una situazione del libro del Siracide chi ama il pericolo perirà in esso allora diciamo che possiamo fermarci qui oggi perché dopo si inizia un paragrafo un pochino impegnativo che è appunto la confessione dei peccati che richiede un approfondimento rigoroso ci sono anche diversi numeri sono ben otto numeri del catechismo perché è meglio che li analizziamo con calma alla prossima puntata Dio vi benedica